Vallo di Alla Lucania, provincia di Salerno, presidio ospedaliero San Luca, mi trovo qui in occasione di una delle tante iniziative legate al Natale a San Luca. Oggi 2 gennaio 2020 si è tenuto qui presso la Lamagna il concerto al cura del coro Giubilate Deo di Abate Marco, grazie anche alla collaborazione con l'associazione Mavu di Abate Marco. Sì, abbiamo accorto con piacere l'invito dell'ospedale San Luca di organizzare un evento a favore dei pazienti ricoverati presso questo presidio. Devo dire che abbiamo avuto una risposta positiva innanzitutto da parte del coro Giubilate Deo di Abate Marco che si è offerto di suonare qui per noi in maniera gratuita. Quindi non posso fare a meno che ringraziarli profondamente per aver messo a disposizione le proprie capacità e il proprio tempo al fine di alleggerire un pochino il ricovero dei pazienti dell'ospedale San Luca di Vallo. Sì, noi siamo contenti, siamo fieri di essere qua oggi perché con il nostro canto abbiamo potuto alietare un po' le persone sofferenti, le persone che soffrono, che hanno delle malattie, i medici e il personale paramedico. Quando nelle famiglie c'è un ammalato in casa, in realtà le famiglie ruotano attorno a questo ammalato soffrendo anche loro. Ovviamente l'augurio che noi facciamo adesso è quello che il nuovo anno possa portare innanzitutto a tanta salute nelle famiglie. Un concerto innanzitutto intonato all'ammomento perché abbiamo sentito delle bellissime canzoni natalizie per cui era del tutto consono al momento che viviamo, che stiamo vivendo. Ma soprattutto poi il significato, il significato solidaristico, la solidarietà per gli ammalati di tumore, la solidarietà per le famiglie degli ammalati di tumore perché una malattia oncologica non costituisce soltanto un dramma esistenziale per la persona che ne viene colpita, ma costituisce un dramma esistenziale che coinvolge l'intero nucleo famigliare. Grazie a tutti.